Arsenico, nichel, cadmio, selenio sono alcuni degli elementi chimici all'interno di questo mucchio di terra, un cumulo di certo non naturale che lascia intendere di essere stato scaricato lì da qualcuno. L'ammasso di rifiuti tossici, di circa 150 tonnellate, ostruisce i via anelli da una decina d'anni. Siamo a Piano d'Orta, frazione di Bolognano, centro tristemente noto in quanto compreso nel sito di interesse nazionale di Bussi sul Tirino, quello della maxi di scarica di oltre 230 ettari. Però a pagare la riapertura di questa strada, che andrà a ricollegarsi a via Fiume Orta, non sarà Edison, la multinazionale giudicata in Cassazione, quale responsabile del disastro ambientale, ma la regione Abruzzo, con un finanziamento di oltre 100.000 euro. Questo perché, nonostante le indagini della Polizia Provinciale, non si è dimostrato che quei rifiuti, gli stessi rintracciati nell'area dell'ex Montecatini, provenissero dal polo industriale. Così Vianelli è, per pochi passi, esclusa dal SIN. Questo alle mie spalle è il cumulo di rifiuti su Vianelli. E lì, a pochi metri, dove c'è quella recinzione, inizia il sito di interesse nazionale. La strada ostruita è pubblica, di competenza comunale, sarà riaperta nel giro di dieci giorni e i rifiuti saranno trasportati in un impianto di smaltimento a Brescia. Poi dovranno esserci ulteriori analisi del terreno per verificare la reale entità dell'inquinamento. Il problema è che le sostanze seppellite non restano immobili, ci spiegano i tecnici del cantiere. È quindi probabile che l'area compromessa sia ben più ampia di quella perimetrata nel SIN. Oggi parte la riqualificazione attesa dai residenti. Le parole del sindaco. All'inizio era un'area residenziale, però oggi, come potete vedere, è un'area deprezzata e dalla bonifica già in atto del sito principale, già conosciuta a tutti, e da questa, diciamo, arteria comunale. Oggi è una giornata agrodolce. Questo è il commento del capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale e testa all'inaugurazione del cantiere. Si ridà rispetto e conforto a questa zona, si ridà la possibilità, fra sette giorni, si darà la possibilità anche di far ricircolare le auto. Quindi questo dal punto di vista dolce, dal punto di vista agro, perché quando si cerca di dare risposta a danni causati da problematiche ambientali, non si può mai esultare in maniera totalitaria, perché questo vuol dire che nel passato il territorio è stato martoriato. Intanto, a pochi metri di distanza, prosegue come secondo programma la bonifica di competenza di Edison di una parte del SIN. Interessa una superficie di 3.600 metri quadri e il volume dei materiali che verranno rimossi ammonta circa 9.000 metri cubi. I lavori, avviati un mese fa, dovrebbero terminare entro due anni.